La costiera amalfitana punto sul turismo anche escursionistico, come ha sempre fatto nel post covid, ancora di più ma in sicurezza. Abbiamo iniziato la nostra attività, le passeggiate che stiamo organizzando prevedono la presenza di una guida nel pieno rispetto dei protocolli e delle normative di sicurezza, ha detto Michele in Serra, guida ambientale escursionistica. Siamo partiti dal Sentiero degli Dei, da Gerola a Positano e quindi dalla piazza di Bomerano, località del comune di Gerola, sui Monti Lattari. Solitamente iniziavamo ad aprile, oggi invece ripartiamo da giugno. Le passeggiate che stiamo organizzando prevedono la presenza di una guida ambientalista escursionistica che garantirà la massima sicurezza nel rispetto dei protocolli, dunque gruppi molto contenuti, distanziamento di un metro o dove il sentiero lo consentirà anche di due metri, prenotazioni online, in modo da contenere ed evitare possibili assembramenti.